ciao a tutti oggi vorremmo come cucinare vegetariano cose che teoricamente non si potrebbero più mangiare tipo o carne e ferri o anche arrosti o cose così ovviamente anche la cucina vegetariana diversi livelli per avere sfiziosa fantasia comunque basta prendere supermercato ci sono sempre prodotti vegetariani o valsoia o altri prodotti ecco adesso io ho questi ora gli farò il ferri e cucinerò anche una melanzana e un peperone ho messo ecco che ho messo una padella inaderente sul fuoco ecco il fuoco ecco 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 Ora Qua risco ora con salsa e funghi La carne E buon appetito